Un momento durissimo, un momento difficilissimo, io sono davvero vicino con il cuore al mondo del commercio e tra l'altro ci stiamo battendo tantissimo perché alcune cose noi non le riusciamo ancora a spiegare. Per esempio noi non riusciamo ancora a capire perché in zona rossa un negozio di abbigliamento uomo deve essere chiuso mentre invece un negozio di abbigliamento sportivo può restare aperto. Chiaramente stiamo facendo dei danni importanti solo ad alcune categorie, questo per noi non è giustificabile. Abbiamo chiesto al governo di intervenire andando proprio a stabilire delle regole più chiare. Cioè se deve essere lockdown, deve essere un lockdown generalizzato per tutti a tutela della salute pubblica e noi siamo assolutamente d'accordo, ma questo per noi non è assolutamente un lockdown, non è una zona rossa e quindi stiamo soltanto danneggiando alcune attività. Inoltre abbiamo chiesto per quelle attività che non possono lavorare, io ho scritto personalmente al neopremier Draghi, abbiamo chiesto praticamente immediatamente di bloccare il pagamento di affitti, di utenze, di tasse, insomma di bloccare perché chi non lavora non può far fronte a questi pagamenti, soprattutto dopo un anno così difficile. Si parla anche di proroga della campagna dei saldi. Sì, io sentendo le associazioni di categoria abbiamo fatto una riunione e mi hanno chiesto nella speranza di poter riaprire e di cercare di prorogare i saldi, questo perché capirete tutti che la merce invernale non è stata venduta e quindi tutti i nostri commercianti hanno i propri magazzini pieni di questa merce e vorrebbero avere più tempo per poterla smaltire. Stiamo aspettando che l'assessore Damario, che comunque è sempre disponibile, gentile e che ha fatto partecipare il suo capodipartimento alla riunione, prenda e raccolga le stesse informazioni dalle altre province per capire, per dare una data unica dei saldi regionali.